Agricoltura e turismo, prospettive di sviluppo del comprensorio è il tema dell'incontro promosso dal Partito Democratico di Gela che si è svolto oggi al Cineteatro Antitoto di Macchitella. Presente anche l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo. Quali le nuove strategie per il rilancio del turismo in tutto il territorio con particolare riferimento a questo territorio? No, occorre innanzitutto riprendere i nuovi distretti turistici, in questo momento abbiamo 27, occorre arrivare a 7-8, non più di questo numero e Gela va inserito all'interno di questo itinerario UNESCO nel rapporto da un lato con la Valle dei Templi e dall'altro lato con le città Tardobarocchie quindi Noto, Ragusa, Scicli, quindi all'interno di questo percorso. Vanno poi valorizzati tutti gli altri percorsi turistici della regione siciliana dove Gela può trovare senz'altro allocazione come i sentieri naturalistici, le vie franchigene e anche il rapporto con i comuni dei borghi più belli d'Italia che sono all'interno della provincia di Caltanissetta, su terra, su tutti. A fare gli onori di casa il deputato Giuseppe Arancio, il presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia ed il capogruppo consigliare Enzo Cirignotta. In un momento storico delicatissimo anche per questa città in cui l'industria ha dato qualche segnale di cedimento e non riesce più a rispondere alle esigenze occupazionali del territorio, l'agricoltura e il turismo possono rappresentare ancora una valida alternativa? Abbiamo un'opportunità grandissima che tra dicembre e gennaio dovrebbero iniziare le misure della programmazione europea. Questo territorio è stato nel passato poco informato, abbiamo la necessità di fornire intanto informazione, attraverso l'informazione poi partecipare e cercare di vincere più bandi possibili. Un momento storico come quello di oggi in cui c'è la via di smissione del polo chimico industriale, ecco che sicuramente è in maniera anche urgente, si deve intervenire anche a livello regionale, quindi grazie a questi strumenti finanziari si deve intervenire per puntare sullo sviluppo delle culture già esistenti come anche la sperimentazione per esempio dell'olivo e anche sperimentare nuove culture che sono biologiche e come per esempio anche le culture fuori suolo che non necessitano di acqua e che non inquinano il sottosuolo. Nel prossimo anno ci saranno delle opportunità importanti per le nostre aziende, partiranno i primi bandi per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale 2014-2020 e quindi dico alle aziende che sono già insediate di utilizzare queste risorse finanziarie per migliorare le proprie infrastrutture, le proprie aziende, per renderle anche compatibili con l'ambiente visto anche i SIC ZPS che esistono sul nostro territorio e ai giovani dico sfruttate queste risorse finanziarie per insediarvi, creare un posto di lavoro, creare un'azienda, un'azienda nuova e quindi dare la possibilità di sviluppo al nostro territorio e all'agricoltura. All'iniziativa di oggi molto partecipata sono intervenuti forze sociali, sindacali ed ordini professionali. Grazie. 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 Grazie.